e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti devastate di like ne esigo 3000 3000 lasciate tutti i 3000 like a questo video guardate gli altri fatti e condividete con tutti i tifosi della fiorentina che conoscete perché oltre a parlare della partita faremo anche un punto su presente futuro viola italiano caiode calciomercato e domani per abbonati base video analisi pronosti e assistenza fante calci alle ore 13 allora lo dico abbiamo fatto schifo per gran parte una cosa orrorifica per due terzi di partite poi ci veniamo però la partita più divertente nel suo orrore nel suo schifo per gran parte del tempo la partita più divertente divertente non dico tanto divertente del del ciclo italiano allora andiamo per ordine parto dalle cose positive oltre allo spirito vabbè il cuore che quello c'è stato anche la presa di coscienza secondo me del fatto che poi esaurita la grande vena atletica l'impegno l'organizzazione per certi versi l'applicazione l'ordine che il maccabi ci ha messo per due terzi quantomeno per metà partita ma anche per un po di più venuta meno quell'energia lì la fiorentina che ha preso coraggio ed è uscita la differenza tecnica però devo dire parto dalle cose positive mi sono piaciuti i cambi che poi hanno anche deciso la partita in un certo quel senso mi sono piaciuti i cambi con i quali italiano ha intervenuto cambi che potevano essere fatti anche prima secondo me perché belotti per esempio nonostante sia entrato non benissimo non è che abbia fatto granché ma poteva essere messo anche prima e anche barack hai visto che barack quando lo mette quando a barack dai fiducia barack ti ripaga perché barack ha segnato col frosinone una partita sicuramente più semplice di questa ma oggi fa un gol importante perché dopo quello che si è visto stasera tornare a firenze con un pari certo ti agevolava per carità di dio non era un risultato da buttare però era un pari che ti avrebbe lasciato qualche nocciolo di amaro e ti avrebbe fatto dire ma chissà cosa succede al ritorno perché se sono stati così all'andata chissà al ritorno cosa succede quindi bene averla vinta perché adesso per uscire servirà un patatrack che spero voglio sperare che venga evitato in quel di firenze quindi le cose positive sicuramente il tenore e l'intensità anche con con la quale la squadra si è espressa nel terzo finale di partita complice anche un calo fisiologico del maccabi mi sono piaciuti i cambi mi è piaciuta tutto sommato la prestazione di tutta la squadra negli ultimi 35 minuti anche il gol che abbiamo subito il 3 a 2 è stato un gol immeritato per me per come stava andando la partita però devo venire alle cose negative le pagelle fatele voi così come purtroppo non ho potuto commentare la roma perché l'europa league gioca in contemporanea alla conferma mi sarebbe piaciuto ho visto anche la partita tra l'altro della scarsa roma scarsa è della scarsa roma della scarsa roma di de rossi vista oggi bellissima tra l'altro ma su quella commenteremo poi perché poi ci sarà fiorentina roma domenica dicevo venendo alle cose negative il primo tempo non ci siamo non ci siamo per forse anche un po di sottovalutazione che c'è stato dell'avversario quel gol forse iniziale anche abbastanza episodico che ci aveva illuso probabilmente che tutto fosse in discesa ma poi anche cose tattiche io nel primo tempo ho visto una squadra che faceva veramente fatica a star dietro a questo schema ho visto ancora una volta e sono tutte cose che rischiamo di rivedere poi contro squadre più quotate contro squadre più continue contro squadre che non avranno quel calo che il maccabi ha avuto poi sul finale di partita che non commetteranno le ingenuità che ha commesso il maccabi con l'espulsione dicevo ho visto una squadra in difficoltà atletica il primo tempo in difficoltà a stare dietro ad uno schema che per come interpretiamo noi il nostro gioco crea delle voragini a centrocampo perché voi ditemi la partita a livello di interdizione che ha fatto il nostro centrocampo in molti si concentreranno sulle responsabilità dei difensori centrali che oggi sicuramente non hanno fatto una grande partita specialmente milenkovic ma anche ranieri sul terzo gol però è guardare il dito e non la luna la luna è quella che diciamo di guardare da da quest'estate all'inizio stagione c'è un centrocampo che a livello già di 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 regia quando non c'è artur fa una fatica tremenda ma in generale fa ancora più fatica a livello di interdizione lasciando soli i centrali e i terzini in duelli uno contro uno che sono devastanti il tutto per favorire una manovra d'attacco che spesso anche inefficace o imprecisa quindi il primo tempo si sono visti i tarli storici della squadra specialmente nel reparto mediano infilate prese con una facilità tremenda assenza di filtro squadra sbilanciata squadra senza equilibrio oltretutto con un attacco che fa fatica fa fatica a pungere perché oggi in zola a parte il gol ma anche belotti quando è entrato non è che hanno fatto queste grandi partite quindi ti assumi dei rischi dietro che non vengono giustificati o corroborati almeno da un qualcosa che davanti potrebbe darti il senso e poi ripeto nel secondo tempo sei riuscito a riprenderla meglio partita divertente bei cambi sei stato bravo ad intervenire potevi anche farlo un po prima però queste le cose positive detto questo veniamo al futuro perché voglio fare un video oggi che va anche o delà della partita il titolo è la fiorentina può vincere la conference ma allora siamo stati per me estremamente fortunati con gli ultimi sviluppi perché l'entrack è uscito il betis è uscito come abbiamo detto nel video sorteggi Ajax e Aston Villa si affrontano tra di loro Sturm Graz e Lille oltretutto si sono affrontate tra di loro quindi diverse tra queste squadre sono uscite e andranno fuori si rischia di replicare un po' uno scenario simile a quello dell'anno scorso dove magari rimarranno due o tre squadre difficili ma soprattutto ne rimarrà una superiore a te e tu che puoi fare il tuo cammino negli ultimi tempi diciamo la verità io l'ho respirato anche il primo tempo vediamo una fiorentina un po' indecifrabile soprattutto una fiorentina che fai fatica a capire quale può essere il suo sviluppo il suo futuro ecco io metterei al centro del villaggio una cosa che abbiamo sentito anche in questi giorni nei media nei giornali mi piacerebbe che fosse palese il fatto che italiano qualora la fiorentina andasse in Europa League rimanesse perché questo può essere uno sprone riconosciuto un po' per tutti per darci un obiettivo in questo finale di stagione la fiorentina è in una situazione simile alla Lazio cioè quest'estate dovevi fare un salto di qualità sul mercato comprando magari meno gente ma più forte di quella che è arrivata meno ruoli ma giocatori un po' più di livello che ti permettessero di fare un terzo anno aggredendo le posizioni più importanti questo non l'hai fatto hai ereditato una squadra con diversi problemi a gennaio non sei riuscito a rimediare anche perché è difficile rimediare a gennaio sui ruoli di cui hai bisogno e quindi siamo un po' in una situazione di guado quale può essere la luce in fondo a questo tunnel per uscire? cercare di fare un salto di qualità sul campo che ti permetta di confermare italiano di farlo rimanere con voglia e fare assieme a lui quello che non sei riuscito a fare quest'estate quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello attraverso una delle due coppe o il campionato ma forse attraverso le coppe è più semplice anche più affascinante andare in Europa League e poi con l'andare in Europa League fare quel salto di qualità che non hai fatto quest'estate altrimenti vi dico la verità è ritornare in conference non so se possa essere un qualcosa utile alla conferma di italiano questo andrà visto ma soprattutto rischia di essere un qualcosa che ancora sembra un ragionare sul già visto per capirlo meglio e anche lì qualora un nuovo ingresso in conference smetti che a fine anno non vinci la conference, non vinci la Coppa Italia ma arrivi settimo e vai in conference ottavo e vai in conference se questo non basta a far venire voglia italiano di rimanere paradossalmente può essere anche deleterio cambiando allenatore perché a quel punto lì allora se devi ricominciare un nuovo ciclo con un altro allenatore è quasi meglio che abbia solo il campionato cambi diversa gente vai un po' a rimestare la squadra non voglio dire a rivoluzionarla ma quasi fai un rinnovamento con un nuovo allenatore allora lì meglio non avere la conference è solo il campionato con un nuovo tecnico perché per un nuovo tecnico arrivare e gestire anche la conference può essere paradossalmente problematico quindi io questo vedo davanti a me cioè bisogna cercare la luce di questo finale di stagione un po' travagliato un po' così lo scopo la ragione ultima è cerchiamo di fare sul campo quel salto di qualità che fin qui non è mai arrivato per poter andare avanti magari con mister italiano e fare quest'estate il mercato che non abbiamo fatto la scorsa cercare di andare in Europa League confermare italiano o meglio dare attraverso l'accesso all'Europa League una nuova linfa a questo progetto similmente a quello che abbiamo detto nel video scorso con una nuova Champions League con Sarri altrimenti ripeto se non si va in Europa League può essere che si debba cambiare allenatore a quel punto lì forse sarebbe pure meglio avere solo il campionato qui vengo al discorso di Cajode perché si legge di un Cajode che interesserebbe alla Juventus questo si innesta perfettamente in questo discorso perché io ho visto venire fuori gente che anche comprensibilmente si lamenta dice no teniamolo ancora alla Juve e vi dico la verità se facciamo questo salto di qualità cioè se la squadra va in Europa League e l'italiano resta e punti a rafforzarti a fare quello che non hai fatto la scorsa estate allora io sarei tentato dal tenermi sia Cajode che Dodo con l'Europa League altrimenti se devi cambiare allenatore se ricominci da capo arrivasse una buona offerta magari la Juve ti dà Arthur nella trattativa che ti permette di non ripartire con un centrocampo nuovo ancora una volta tutto sommato sarei aperto avendo Dodo magari non avendo neanche le coppe avendo la conference c'hai Dodo c'hai Pierozzi che torna non sarei chiuso onestamente non perché sia scarso il giocatore è fortissimo e di qualità ma se arriva una buona offerta sul ruolo se è anche relativamente coperto se ne può parlare ditemi cosa pensate su tutto un vostro commento a 360 gradi fate voi i voti date voi le pagelle un caro saluto grazie a tutti